Oggi, primo maggio 2012, sempre qui per Teleradio Cinghiale Stereo Network, una vita su YouTube il filmato giornaliero. Il pomeriggio, quest'oggi, la maggior parte delle attività commerciali sono chiuse, quindi sicuramente ci sarà poca gente che va a fare combere e noi siamo in io con i nostri potentissimi mezzi a fare video, come sempre. Stiamo andando in località San Marco Argentano e come sempre con le nostre attrezzature firmiamo il quotidiano, quello che succede. Oggi anche l'equipe di Teleradio Cinghiale Stereo Network è in ferie. Non c'è nessuno, ma Roberto Francesco è un po' assonnato, ma è sempre in agguardo con le sue telecamere pronte a cogliere l'attimo di cose quotidiane che succedono in Italia. Ci siamo ripromessi di fare un video al giorno e lo faremo. Mandarremo fede alla nostra promessa. Oggi fa molto caldo, siamo intorno a 27-28 gradi. Stiamo viaggiando a bordo della 02, la mitica tempra Station Vagon è un turbodiesel, macchina che ormai si può usare solo nei giorni di festa, dato gli alti costi di gestione. Il gasolio che ormai è arrivato alle stelle, come dice qualcuno, si schiorano i due euro e quindi si cammina sicuramente di meno. Qui siamo al cosiddetto pivio della fravica, che chiamavano una volta così. Pivio che poi ci mette verso le collinette che stanno sopra la cittadina di San Marco. Stiamo man mano salendo e ci riecheremo in località Spinetto di San Marco. Domani ricomincia l'attività lavorativa di tutti, 2 maggio, il 10 se Dio vuole sarà il mio compleanno, il 10 di maggio appunto. Maggio è un mese veramente caldissimo quest'anno, d'altra parte è così perché si passa direttamente dall'inverno all'estate senza stagione intermedia e quindi eccoci qua. Intorno vediamo tutto verde, tutto strafiorito in questo periodo. Ricordiamo che questi video vengono realizzati senza nessun tipo di montaggio, sono video cosiddetti a freddo e poi vengono immessi direttamente sul nostro canale di YouTube. eccoci qua. Oggi abbiamo pochi argomenti da affrontare in questi pochi minuti di film, anche perché il telefono non è fissato, lo sto tenendo in mano mentre guido, quindi non è facile fare una cosa e l'altra, ci mancherebbe solo di parlare di argomenti piuttosto strabrosi per completare l'operazione. Alle prossime, domani è un altro giorno, buon procedimento da Teleradio Cinghiale Stereo Network. Ciao a tutti, ciao!